Non siamo nel Texas, malgrado l'abbigliamento di questa graziosa ragazza, che altri non è se non Liana Orfei, che ormai la diva del circo è passata definitivamente nelle file delle dive del cinema. Ma Liana il circo lo ha nel sangue e pertanto, d'accordo con il fratello Ferdinando, ha deciso di metterne su uno in proprio, staccandosi definitivamente dallo zio Orlando. Qui siamo a Macerata, dove il nuovo circo di Ferdinando e Liana ha messo le tende per il debutto. Liana non fa parte della truppa del circo, ma dell'organizzazione è finanziatrice, animatrice e sostenitrice. Segue la carovana in ogni suo momento libero da impegni cinematografici e non è avara di consigli, soprattutto quando si tratti di indicare le truccature più adatte per i clowns, un numero clou per ogni circo che si rispetti. Poi, al momento di andare in scena sulla pista illuminata dai riflettori, si susseguono orsi, cavalli, elefanti e giocolieri di ogni tipo e genere. Il particolare degno di rievo è che nella truppa lavora anche la mamma di Liana e Ferdinando e il loro fratello minore, Rinaldo. Grazie. 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 Grazie.